Al Napoli, terzo posto solitario in classifica, avvicinato il Milan. Il pallone per Cavani resiste l'attacco di un paio d'avversari, poi chiede l'1-2, Cavani la smonta di testa, la vizzi in percussione, la vizzi! Palla di poco fuori, grande azione del Napoli. Conti, tocco di Mistiroli, è rimasto largo Agostini, da quella parte c'è anche Nengolan, Agostini, Valcross, acqua fresca! Immobile De Santis, la palla che va di poco fuori, seconda palla con l'acqua fresca. Il lancio di Santa Croce, lo scatto di Zuniga, arriva sul pallone colombiano, controllo di Zuniga, cerca l'1-1, dentro per Amsic, l'intacco, l'inserimento di Lavezzi, atterra Lavezzi, calcio di rigore! Calcio di rigore! Ammonito per il fallo a Riauvo. Cavani contro Agazzi, 3-26, Cavani, Rete, il numero in vantaggio ed è a 3 punti dal Milan! Amsic, prova in percussione, Amsic, pallone morbido, controllo di Lavezzi, il controcross, Amsic addosso da Riauvo, poi Yebda, Agazzi, non è finita, ancora Yebda! Si coordina per il cross d'ossene, al sinistro, in aria, vuoto Cavani, attenzione, c'è pazienza, la deviazione che non arriva di Cavani, palla fuori, Napoli, straripante! Imposta a Cossu, il cross, acqua fresca, si coordina, disturbata con acqua fresca, Rete, acqua fresca, è il primo gol al Napoli in 10 partite e la Cagliari trova subito il pari. In acrobazia a Santa Croce, gira per Amsic, il controllo dello Slovacco e la pallone tobera Cavani, posizione regolare, Cavani, Cavani, Rete, Rete, Cavani fa esplodere il San Paolo, è guagliato poi anche il record storico del Napoli in Serie A. C'è Cavani che può partire, cerca l'ingressione aria di rigore Cavani, palla dentro, Amsic, esterno della rete! Scatta le contropiede delle Napoli con Amsic che mette in movimento l'Avezzi, può attaccare in velocità l'Avezzi, punta verso l'area avversaria, c'è Cavani che arriva, il cross da cercare ancora, Cavani! Colpo di testa alto sopra la traversa, gran contropiede del Napoli. Si coordina per il cross, Victor Ruiz, palla in aria, colpo di testa a palo! Grande anticipo, fa palla sulla palo da parte di Mascara. Prova a partire Biondini, fischio della San Paolo, insiste il cale, il cross di Biondini, De Santis! Non è finita, sul pallone Cossu prova a calciare al volo, si oppone Yevda.